Grazie a te e ci fa piacere di una cosa. Stasera noi abbiamo fortunatamente riscoperto che Grosseto non è quello che si dice poi nuovamente, una città padure dove tutto è fermo, tutto è acqua stagnante. Grosseto siete voi, siete voi grossetani non che vivete in questa città per vocazione, per bisogno, per lavoro, per caso, per amore, per tutto quello è caratterizzare anche la scelta dello stare o l'obbligo dello stare in una città. Noi vi diciamo grazie perché veramente questa è una ricchezza, un potenziale che esiste in questi cittadini durano un giorno, io dico sempre questo, dico da giornalista o in direte, i giornali durano un giorno. C'è il blog però di questa sera, ci saranno queste canzoni che curano, ormai dico i coniugiati, anche lei si è inserita e l'ha fatto un mericcia al set, e quindi l'emozionanza rimane comunque su internet e su youtube anche questa serata con i vostri pezzi eccetera e io penso e mi auguro che sia anche promozionale, però siamo noi i primi per farmi intempere a ringraziarvi perché è stata una scoperta.